In corrispondenza di Stigliano le distese di Olivi si aprono su una vasta radura al centro della quale si erge solitaria la piccola chiesa intitolata Santa Marina Martire, il cui culto è molto diffuso in zona sin da epoche remote. L'impianto è una facciata articolata su due ordini e tripartita con un coronamento curvilino nella zona centrale che ripete la curvatura della finestra sottostante. La struttura copre in parte la cripta. Nel 1762 l'ipogeo sarà rinforzato con pareti ed archi per sostenere il peso della costruzione sovrastante. All'interno della chiesa sono conservati tre altari, quello maggiore dedicato a Santa Marina Martire, quello di San Nicola e quello di Sant'Eligio. Un epigrafe sul reto del prospetto attesta che il barone Salzedo concluderà i lavori nell'anno 1775. Grazie a tutti.